Rocket 3, una novità che si fa in tre per te, per semplificare la vostra vita in cucina. Le sue lame sono in acciaio garantite e per alimenti. La sua semplicità d'uso la trovi anche per affettare l'aglio in un batter d'occhio. Novità assoluta, ideale per grattugiare pane e formaggio, fresco all'istante, cosa di più bello in un primo piatto. Adesso con un semplice gesto cambiamo la lama, togliamo la coppiglia e mettiamo la nuova lama in dotazione per grattugiare le verdure e quant'altro. Per un buon uso girare sempre in senso orario come indicato nel coperchio. Sarà solo un piacere con Rocket 3, veloce e pratico. Rocket 3 è prodotto in Italia, l'originale. Inoltre, utile per guarnire con fantasia le vostre pizze. Così. Guarnire le vostre torte con mele o cioccolato non potrà mai essere più semplice e veloce. Facile e poco ingombrante da lavare anche in lavastoviglie. Hai visto quanti usine puoi fare? Rocket 3 Prendine uno o più di uno e paghi alla cassa. Intergrossing Store Video, novità di qualità.